In questo esercizio vediamo come aggiungere due raccordi a due circonferenze. Il raccordo primo avrà raggio 100, il secondo a raggio 70. Vediamo l'esempio sul nostro esercizio. Selezioniamo il raccordo. Selezioniamo quindi il raggio e digitiamo RA100. Selezioniamo il primo cerchio e selezioniamo il secondo cerchio. Come si può vedere il sistema mi ha aggiunto un raccordo però dalla parte sbagliata, cioè dalla parte interna. Non è possibile controllare bene l'orientamento dei vari raccordi, quindi la posizione del centro. Sapendo però che il raggio e comunque diciamo in genere tutte le circonferenze e le curve vengono tracciate in senso orario. Cancello quindi questo raccordo che non mi soddisfa e vado ad aggiungere una circonferenza. O scelgo cerchio da qua oppure direttamente da disegna cerchio. Uso il cerchio perché col cerchio posso controllare la tangenza e il raggio sapendo che il cerchio viene disegnato in senso anti-orario. Quindi prima tangente, seconda tangente, il raggio mi viene richiesto e viene specificato in 100. Ovviamente mi ha aggiunto una circonferenza che adesso vado a tagliare, quindi seleziono il primo cerchio di tangenza, quindi limite di taglio. Tengo premuto lo shift, seconda circonferenza, invio e seleziono la parte rimanente del cerchio. Ripeto la stessa operazione di cerchio TTR, quindi tangente, tangente e raggio, per la seconda curva di raccordo, quindi primo cerchio, secondo cerchio, raggio 70 e il sistema ovviamente mi disegna un cerchio completo che taglio dal primo cerchio, quindi come limite di taglio, shift premuto, secondo cerchio, invio e parte eccedente, quindi da tagliare e eliminare. Come si può vedere queste sono le due curve di raccordo, di raggio diverso e se voglio anche definirli come colore e come posizione, dopo averle selezionate scelgo il layer esercizio e questo è il mio esercizio completato.